Ok, buongiorno a tutti. Oggi ho fatto la legge di agosto 2022, ho portato il video del final boss in cui ho giocato Paratrog. Meta che non è che mi faccia impazzire, sinceramente. Alla fine del video del final boss ho detto adesso questo mese per divertirmi, ho fatto la legge e mi diverto a gioco mazzi stupide. Non giocherò soltanto Renato al Reno Shaman. Un mazzo folle, 40 carta tutte diverse. Cioè probabilmente il mazzo più inconsistente che esista. Non finisce più. 40 carte diverse, c'è di tutto, c'è tutto quello che si può giocare in un Reno Shaman. Vediamo com'è. Secondo me muore da qualsiasi mazzo agro decente, ma vabbè. Proviamolo. I contenuti quelli seri li fanno i streamer professionisti, io porto roba stupida. Troll contro Jaina. L'hai voluto tu? Porto con te la furia degli elementi. Per già tenermi... ci c'è la zampa in mano, sai? Visto che... è talmente improbabile trovarlo, che... Giochi fino al Toro 9 con una carta in meno, ma almeno hai la certezza di averci. Me lo tengo, sì. Anche questo ci sta. Tanto pesco due Murloc. Murloc quanti ne ho? Vediamo. Vabbè, ovviamente Toxifin e Flurgl. Finito! Ne ho solo tre Murloc. A Mutanus e i soliti due. Ah, ok. Quindi non gioca nemmeno il pacchetto Murloc con... tipo Murloc che pesca altri Murloc. Ok. Ok. Oh, yeah, yeah, yeah. Sostanzialmente non farò nulla fino al turno 5. Ok. Ma... Il futuro è nostro. Mh! Mazza completamente a caso questo. Non so cosa fare. Continuo a fare il potere eroe. Non posso giocarmi un... Un razzo così a caso. Metterei questo. Che mazzo stupido. Questo è buono con... Con il ratto di fogna. Ehm... Questo è un re, no? Alla fine. Gli strumenti della creazione. Un reno mage. Un reno re natal mage. Quindi più o meno è il loro stesso... È il mio stesso mazzo. Solo che il suo ha un senso. Il mio no. Dammi quello che hai! Un reno mage. Le due due. Questa giocata pro che ho fatto. Scusate Finalmente, la capola diventa più grande. C'è il potere che cercate di ottenere solo conoscenza. La fine si avvicina. Dammi quello che hai! Mi è stato detto di dire ciao alla mia amorosa che ha un taglio di capelli splendido. Quanto sono bravo, non puoi negarlo. Fammi pensare. Vorrei dire che sono veramente molto fortunato di stare con Sara, una ragazza esemplare. Che ha soprattutto un taglio di capelli stupendo. Ciao amore. E' l'ora di deprimizzare il nostro vecchio maestro. Oddio, allora aspetta. Che qui ridendo e scherzando secondo me ho un casino di cose buone da poter fare. Allora, uno, questo, mangio questo. No, mi serve geppetto. Gioco prima il questo qui. Il robottone. Madonna quanto è forte questa combo. Bollner. Celtas. Mutanu. Non, non... Ehm... Boh... Aspetta, facciamo così Allora Due danni a tutti E Due elementali E questo E rigeneriamo 6 di salute Allora Bolner Celtas No, mi serve ancora Geppetto Queste acque donano la vita Oh, cazzo Un piccolo spuntino Allora, Bolner Ehm Celtas Ehm Mutanus E Talpa Io non parlare E l'ho mangiato reno Hm Non male Però C'è un po' troppa roba forte in campo Ehm Ehm A little Ho perso Il vuoto Il vuoto è un corno di sussurro Ehm 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 Allora Aspetta 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 Che qui ha fatto la cagata lui Allora Che posso fare Geppetto Geppetto Ricordiamo che Geppetto E se ne strabatte il cazzo Dell'ordine Porca Troia Ho perso Non avevo considerato Quest'eventualità Niente GG Ehm Ho perso Saremo ricchi Liberatevi Che fatica Allora Lui ha 22 30 35 A little Sì Ho perso Ciao Fanculo Perché Geppetto Se ne batte Del cazzo Dell'ordine E questo Non l'avevo considerato Se pescavo il frizz Avevo vinto Fanculo Niente Ho perso Peccato Troll Contro Gaina L'hai voluto Porto con me La furia Degli elementi Questo lo tengo Fanculo Vedo che hai portato L'ospiti Uh oh Allora oh beh non ce li ha però ci sto per buttare qualcosa ma giocare sto qui è così no vediamo avevo premesso che sì avevo premesso che questo qui proprio è il mazzo proprio cioè scarso quello che sto giocando solo così per divertimento perché vabbè ho fatto legend a sto giro ho già fatto legend e ho detto basta sto mese qui farò soltanto sto mazzo qui che è stupido però mi diverte giocare veramente scarso tra l'altro il corgon zola zola la gorgone beh qui zeffrys chiaramente zeffrys quattro mana cosa mi da non so non so nemmeno cosa potrebbe darmi con quattro con quattro di mana infatti mi ha dato una merda di roba questo diventa un 6 6 questo però è meglio è meglio questo però questo è forte anche con zilia con con shader walk no è meglio questo però mi riprendo ziliax direi c'è 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 di la parola magica Di nuovo Ziliax, no? Sì. Errore. Secchio caldo. Sì. 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 Va bene. Torno dopo pulisco tutto, direi, con questi due qua. Giusto? Giusto. Ho vinto. GG, ho vinto. L'addestramento 2 ha dato i suoi frutti. Il mio tempo sta per scadere. Io non parlare. Gravino, vinto davanti a noi! GG, che forte sto mazzo. Penso di aver vinto, giusto? No. No. Io parlare, io parlare! Cos'è sta carta qui? No. 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 Che c'è? Che c'è? No. 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 attacco un attimo il ventilatore perché si schiatta dal caldo io apro la finestra Malfurion io questa la tengo questa qui secondo me è la carta più forte del mazzo quindi si tiene tutto vedo che hai portato ospiti guarda in campo in campo c'è una nuova giocatrice cos'è mica visto il tempo non aspetta nessuno il ventilatore costa 2 in meno per questo turno però non ho giocata questa è una carta che nel vecchio Reno Shaman la usavo non è male rompe i coglioni ai ai big priest non è male Cosa fa questo? Attiva il rantolo di morte di un tuo servitore. Ok. Vabbè. Io gioco questo. Oh no. No. Gioco questo. Lo gioco il turno dopo. Questa è la carta giusta. Vabbè ho vinto dai. Un token druid. L'ho già over counterato. Quanto è forte sto mazzo. Adoro i mazzi forti. Bello anche giocare qualcosa di diverso. Tipo qualcosa che ha 40 card. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Cosa cazzo vuoi fare? Assolutamente voglio un attimo vedere cosa hai da dire. Un attimo. Un attimo. Ah no 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 c'è il libro. Andiamo con sai dai. La pazia non è una scusa per essere imparicati. Oh la. E lidiamo questa. divertentissima questa carta che l'ador non è vero Sì, questo mazzo qui se lo fai giocare è forte. Non ho ancora trovato un mazzo iperagro, se non lo incontro non vedo come possa perdere. I fiori stanno con l'accademia. Se li trasformassi tutti in Murloc, perché no? Va bene, direi che gli abbiamo fatto un po' di culo, giusto un attimo. Quanti danni abbiamo? No, sono ancora troppo pochi. Però questo mi sputtana il potere eroe. Oh, è arrivato il momento di dare tutto lo stesso! Oh, è arrivato! Oh, 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 oh. No, forse no. Se fa il potere di quello no. Questo fa due danni a tutti. Bello sto mazzo, un death rattle, un death rattle, druid... bello. Allora, beh, che fare, che dire... Quanti danni? Le 17 sono ancora un po' pochi. Le 17 sono ancora un po' pochi. L'ital non ce l'ha, 8, 8, 16... 23, 24, 28... ha 30 danni, eh? Beh, oddio, eh? Vi manca poco dal little, eh? Sai che ho perso, invece? Forse... forse no. No! 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 No, no! No! Vedi! Ehi, arrivo, arrivo, un attimo. Questo qui l'ha un po' cariata, giusto un attimo. Anche la sua un po' cariata. Due danni c'è da qualunque cosa. Giusto? Ho bisogno di Shudder Walk, decisamente. Ho bisogno di Shudder Walk, decisamente. Questo è forte. Porca puttana se è forte questo. Che cazzo? Perché? Perché non mi si sta spostando? Che cazzo c'è sto mouse? Oddio. Se solo tenessi una zuppa calda. Minchia, mi si è sputtanato il mouse. Ehi, arrivo, 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 un attimo. In me st resonates in touch up. Ehi, qualcosa non mui trinta. Ho bisogno diсяdare questo. No, 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 no. Ma c'è, mi si è sputtanato il mouse nel momento meno utile. Allora... Bella sta parte mi è piaciuta, a parte giusto il fatto che sono lì, sono quasi morto. Oh là! Eh, però... No, non ha per... Questo cos'è che fa? La! La! 29 milioni di dollari, what? Grazie. Ti ringrazio per la saggezza tua. Ah ecco, forse se con Reno ti curi più di 30... Fai con l'achievement lì, ok. Andiamo a vederlo poi. Ho quasi finito le carte. Eh, tu hai ancora tipo una carta e i miei ho 16. Ho finito le carte. Il tempo non aspetta nessuno. Uh, Giappetto. Eccolo qui. Noi... GG. Eh, il potere che cercate, che il suo ragno fischie ora, papà! GG. più fare niente arrivo eh gg Gigi Gigi Questa mi è piaciuta tantissimo Cioè si vede quando un mazzo mi piace, cioè giocare Barret Rogue mi fa schifo, giocare il Reno, Renata al Shaman 29 salute con un singolo Reno Jackson Ok Anche di più, 31 infatti Ecco, in tutta la mia vita non ho mai curato Reno Jackson di... 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 quando era uno di Veed Forte Ora si Che bello sto mazzo Allora lui sarà un cavolo di... quest... quest hunter Ah... vedo che... nessuno sopravvivrà Si Odd quest Salute viandante Mi onori Vabbè ma io non gioco niente Qui serve Reno Assolutamente La natura attende solo Ah... Non so se... no, perché se metto questo gli do un buon motivo per... Cosa fare? Però d'altronde... Ma sì... Cosino di pomparmi quest... Però contemporaneamente gli agevolo la quest... E' opinabile la scelta... Questa avrebbe potuto farlo anche face, quindi cambia un cazzo... Cosa fare? Cosa fare? Grazie a tutti. Fammi pensare. Lui non può chiudere la quest a questo tour. Quindi aspettiamo. Lui non può chiudere. Non muovetevi che nessuno si farà del male. Non muovetevi. I need my reno. Che non ho. Ho perso. Ho perso a tutti i modi, mi so. Eh. Ho perso. Ho perso. Il colpevole non è stato scrupolato. Eh non basta però. Alla moneta Ah ce l'ho anche Niente Eh il casino di questo mazzo Che giocando 40 carte chiaramente Se già con 30 è difficile Arrivare a A trovare Reno Figurati con 40 Quando hai ancora 27 carte nel mazzo Invece che 17 E si purtroppo Questo è un match up Brutto contro Shaderwalk In generale figuriamoci contro Questo Shaderwalk Però ci sta dai Un altro di questi Merda di La caccia A che inizio Porta con me La furia degli elementi Eh Questo non mi serve Questo Nemmeno Lo a teb sicuro Vedo che hai contatto Hospiti Finito Ehm 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 Sì Oh Ok Ok. Ok. No, io aspetterei questo un po' sprecato presso la sua stronza, tanto io d'immagine non ne ho, quindi. Direi di fare lo ATEB per questo. Direi il mio sangue rivolle per la guerra. Non mi ricordo il mio ultimo grido di battaglia quando è stato. Se ne ha giocato uno. Fammi pensare. Qui ci sta a fare così. Ok. Qui ci sta a fare così. Allora. 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 Armature! Armature come nuove! Ah, GG. Allora, boh, ho vinto, direi. Allora, boh, ho vinto. Allora, boh. Allora, boh, ho vinto. Ho perso. Se lo rompi lo paghi. Un esemplare perfetto. Armature! Armature come nuove! Non muovetevi che nessuno si farà del male! L'ho beccato a mangiarsi la stanzi. Se lo rompi lo paghi! 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 Nessuno si merita di essere imprigionato! Se lo rompi lo paghi! 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 non muovetevi armature come muove go 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 up a parte aver perso dammi quello che hai sono stupito un brindisi a chi ha cercato di uccidere fortissimo questo mazzo è fortissimo e le statistiche non mentono la mia magia prepara porto con me la furia degli elementi con tutti questi gridi di battaglia e nonostante 40 carte non c'è Bran vedo che hai portato un ospiti ah ah la natura spende solo questo è chiaramente oh, boh manco male è un re, no? dammi un grande approccio avanziamo ho capito, è un secretin e un reno è un secretin beh, se un secretin si sono messo bene la faccia del cazzo si sono messo bene è un secretin, è un secretin è un secret mage dammi quello che hai per me che non ho niente per spaccare i segreti mannaggia a me un esemplare perfetto il cielo morde più delle baci di una bestia finito grazie Grazie a tutti Grazie. 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 Quanto sono forte, tengo anche una catena a 5 mana. Così, tanto per... tanto scusa, il turno 1 ce l'abbiamo il 2 ce l'abbiamo, basta questa è una sfida tra due giocatori legend entrambi con il dorso legend ma questa è una bella carta anche questa però su 30 carte non trova spazio su 40 si non so se c'è spazio per la quest si potrà sicuramente togliere ma questa è un di più alla fine non è così necessario vince anche senza se lo rompi lo paghi io continuo a mettere l'armatura e ci sta perché è un warrior no c'è un bel po' di armatura ragazzi qui potrebbe fare quattro danni a tutti se lo fa non mi lamenta notizia bomba sarà una partita molto lenta questa molto molto lenta perché dovrei giocare un pezzo per fargli pescare una carta non ne vedo il motivo bom ah manco male no Oh, no! Sti cazzo, boh, dai questa ci sta. Uh ci c'ha uno buono, eccellente, se non me lo mangio in qualche modo. Questo mi rompe le palle perchè non mi procca eno invece. Questa mi rompe le palle perchè non mi procca eno, però ce ne faremo una ragione. Qua però rischia di non rimanere, boh. Il coraggio degli uomini non verrà meno. Ok. Lunga sta partita. Una sfida tra due control, qui più tron control non si può. Però questa scusa una la... Non è un re, non lui perchè... Questa ce la doppia. Qualcosa sarà. Devo scegliere! La natura attende solo a me. La natura attende solo a noi vissi. No, non vissi. Non voglio nulla dire. Però c'è l'ora da dare un... ... rumore che esiste. Che ne dici di una nuova vita? Che ne dici di una nuova vita? Ma si, Mirai. Oh, moro. Un po' spreccato, eh? Peccato. Mi ciolo una carta, l'unica che mi darebbe fastidio è questa. Il meglio non potevo sperare. Io non parlare! La natura attende solo! Il cielo morde più delle pauci di una bestia! E' il potere che cercate. Io ho. E' il potere che cercate. Io avevo 10 carte in mano e lui ne aveva una. Cazzo di control xd che giocava con il top deck. Cazzo! Cazzo! Cazzo di 3 Ah, di nuovo quella merda di cacciatore, va bene. Tra un po' finisco, faccio ancora questa, poi semmai continuerò domani. Cioè facciamo ancora una vittoria, se non è questa è un'altra. L'ho beccato a mangiarsi gli stuzzichini, vissi. C'è un po' finisco, faccio ancora un po' finisco, faccio ancora un po' finisco. Sono già un po' del gatto? E' l'ora di detrontare il nostro vecchio maestro. C'è un po' finisco, faccio ancora un po' finisco. C'è un po' finisco. C'è un po' finisco. C'è un po' finisco. Mi serve reno, se no sono del gatto. C'è un po' finisco. 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 No. finisco. C'è un po' 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 finisco. Dimmi Arrivo Andiamo avanti finché non si vince, dai Passeremo la nottata qui allora Sta accendo la luce Mi si sta incupendo Oh Jesus Bello, utile Buono No Il Zilliax adesso è inutile Ok questa la vinco dai Sono partito decisamente meglio di prima C'è partito decisamente meglio significa che ho tutte tra i murloc Grazie 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 Prepotente armata Grazie 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 è bagata sta carta meno male che lo fa di suo però caspita cioè io la tolgo cioè se è bagata non posso giocarlo tolgo quella e metto qualcos'altro metto brano metto la quest cazzo nessuno ma questo no metto brava mi fa un culo a 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 Grazie a tutti Il colpevole non è stato scrupoloso Toglierò quella carta lì perché è buggata Non so cosa dire Potereroe con la moneta Ma che fenomeno Non so cosa dire Non so cosa dire Grazie Vabbè sono in un show vinto Indossa subito i guanti È impossibile che perdano No? Facciamo la super combo Indossa subito i guanti Io non parlare Attivazione del dislocatore mentale TC 130 Bella giocata Che ne dici di una nuova vita? Che ne dici di una nuova vita? È simila! È simila! È simila! Quanto allungo 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 cazzo te ne fotte no un sentito ringraziamento grazie grazie mille un sentito ringraziamento no lol ben fatto mi arredo bom andiamo a vedere le statistiche che ha quasi due ore cazzo sto giocato ehm due ore però ho giocato meno di dieci partite tipo andiamo a vedere no ho giocato dieci partite esatte sette tre settanta per cento di win rate non male sto mazzo buona serata ciao ciao